FONTECCHIO Suon, adesso ancora palla per Suon Credo che finisce il primo passo Che passaggio di Suon, signori Amarulli ha Marco Contento L'attacco di Mantua Si è bloccato CONTENTO Fa valere i suoi muscoli E va a schiacciare Per tre anni E altra palla persa In un passaggio orizzontale Cosa ci regala Green? Mamma mia, signore mio Pastizio Totè recupera Cortese Ultimo secondo Gira da metà campo Cortese! Cortese da tre punti Palla due Vinta da FONTECCHIO Ma conquistata da Cavaliero Che vuole iniziare subito Con i fuochi d'artificio Alli up per Giavonte Green Può ripartire Ferri Transizione per Berga Mossolano che attacca Con decisione Scanti E va a igniodare E infatti ruba palla Contese Parte il contropiede Primario Nella Ombi Con questo Alli up